Francesca, benvenuti. Buonasera, mister. La riporto un attimo sul tema Leao, per chiederle se non le dà fastidio, non le ha dato fastidio, che un po' tutti siano intervenuti su questa questione della gestione, non condividendo in molti le sue posizioni, le sue parole addirittura. Ecco, se questo tema sente che è un po' troppo discusso, tra virgolette, dal suo punto di vista. No, onestamente no. Andiamo dietro. Io so quello che è importante per me e per la squadra. Penso che è normale le persone, voi, parlare di questa situazione. È normale. Io devo intenderlo, ma devo seguire la mia strada, quello in cui io credo e quello che per me è importante per la squadra. Pietro Mazzara. Mister, buonasera. Buonasera. Uno dei suoi Milan più belli di questa stagione è stato con le due punte, specialmente nel derby Abram-Morata. Può essere un'opzione per domani sera questa situazione? No, perché non abbiamo Morata e Tami, perché Tami ha cominciato a allenare, adesso non sta nella meglio condizione fisica. Non potrà giocare tutta la partita, magari potrà giocare parte della partita, ma non inizialmente. Prego, Mirko Calemme As. Salve mister. Domani sarà una serata speciale anche per Teo Hernandez, che torna al Bernabeu. Volevo una sua opinione sulla stagione che ha vissuto finora e sull'importanza che può avere una sua grande prestazione per un match come quello di domani. Penso che Teo ha cominciato la stagione principalmente con difficoltà fisica. Mi sembra che adesso sta ritornando, sta meglio, sta in crescita, come abbiamo guardato l'ultima partita. Penso che ha spazio anche per stare meglio. Prego, se mi dici nome testata, per favore. Buonas tardes, Eric Uterrez para Radio Libertà. Buonas tardes a los dos. Esta è per Mike. Queria preguntarle, perché hace poco quedò quinto nel trofeo Lev Yassin del Ballon d'Oro, queria preguntarle se él cree che è uno de los cinque mejores porteros del mondo e se él lo cree, quien estaría con la LNS Top 5? Buonasera. Per me, sì, non penso che... C'è tanti portieri molto forti, ma sì, nella mia testa, non penso di essere migliore. Nessuno lo farà per me. Quindi oggi hanno fatto un posto dove sono quinto, ok, top, ma io devo continuare a lavorare per aggiungere certi obiettivi. Ma come ho detto prima, questa non è la priorità oggi. La priorità è di essere concentrato su ogni momento che abbiamo e il momento di oggi è la priorità di domani. Prego. Facciamo ancora un paio. Hola, buenas. Aquí Nacho Barragán, para Madridista Real. La semana pasada se celebrò la gala del Ballon d'Oro in la che parecía che iba a ganar Vinicius e finalmente acabò ganando Rodri. Non sé che opinion tenéis di questo e se pensate che sia il jugador más determinante del Real Madrid a día d'ho. Per me il premio individuale non è importante. Per me sono tanti criteri, sono tante persone che decidono questo. Ma capisco che possa avere questo tipo di premio. per me dobbiamo rispettare le decisioni. E' difficile dire qual è il giocatore che merita essere lo meglio. Per me dobbiamo rispettare. Ciao mister, buonasera a Eduardo Vidal per HSM Deportes. Cosa significa per lei giocare domani contro un allenatore così importante nella storia del Milan come Carlo Ancelotti? E' sempre speciale. Per me, come ho detto, è una referenza. Sono un gran fan di Carlo. Non solo come allenatore, ma soprattutto come persona. E' un esempio per tutti noi allenatori. e per me è una grande motivazione, ma è un grande motivo di orgullo. E davanti, lui, sì, exacto. Ciao mister, buonasera a Mike, in spagnolo. Primero al mister, che è tan importante può essere questo partito, soprattutto conoscendo la storia di questi due, ah, perdone, è un felfero del rischio per il mondo del Deportes Colombia. se considera che questo partito è il derbio europeo e per Mike, che è importante avere in tua squadra defensiva a un giocatore che conosce perfettamente questo stadio? Grazie. Come Oteo Hernandez. E' una partita con i club che penso che hanno vinto più la Champions League. Penso che questo di tutto sulla partita. è difficile dire se sono il mio club. Oggi abbiamo tanti club e tante partite in Champions League che sono tra grandi club e sono grandi e grandi partite. Ma è ovviamente una partita con due club che sono attrattivi per le persone che gli piacciono del calcio. Aspettiamo di stare a altura di questa partita e di fare un buon spettacolo per le persone che gli piace il calcio. Facciamo l'ultima con Carlo Pellegas. Sì, buonasera. Una domanda a lei e a Mike. Domanda esoterica. La vigilia di Milan-Inter era molto simile di Inter-Milan. Milan sfavorito nettamente, quote dei bookmaker molto alto per il Milan. Lei si è inventato una formazione, i ragazzi hanno giocato una bella partita. Che differenze, che analogie, che differenze tra la vigilia contro Real e quella contro l'Inter dove il Milan era sfavorito? Poi un'altra bella. Quello che è simile è che Milan non era favorito a nessuno. Non era con Inter e non è domani. Ma sono partite totalmente diverse. Anche perché sono avversari con un stile di gioco totalmente diverso. non ha paragono tra l'equipa Inter e Real Madrid. Abbiamo preparato, in poco tempo che abbiamo avuto, la partita di un modo diverso, perché è una squadra diversa, gioca di modo diverso, ha giocatori diversi. E noi abbiamo preparato una strategia diversa per affrontare un Real Madrid che è fortissimo. Sono andato a prendere uno scrittore francese, Alexandre Dumas, l'autore dei tre moschettieri. In francese, le courage impose il rispetto ai nemici. Il coraggio incute paura ai nemici. Che coraggio deve avere il Milan? Può ripetere la partita con l'Inter che è stata una partita coraggiosa o è difficile avere coraggio qui contro il Real? Ogni partita ha la sua storia. La partita di Inter e domani sono molto diverse. In ogni momento dobbiamo avere il coraggio. Giochiamo il calcio. Dobbiamo avere il coraggio di attaccare, di difendere, di fare i passaggi, di fare gli sforzi per la squadra. Coraggio di giocare al calcio. Non c'è nessuna paura da avere quando entriamo sul campo. L'unica paura che possiamo avere è di non essere noi. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie.